Non voglio tediarvi con slide piene di numeri, trend, coverage, problemi del sistema bancario, eccetera, ma vorrei passare un paio di messaggi e lasciarvi con una riflessione. Primo punto, in Italia il fenomeno del deteriorato è assolutamente importante. A fine giugno sui bilanci delle banche italiane giacevano ancora 300 miliardi di crediti deteriorati. Di che cosa si tratta? In sostanza tra le categorie sofferenze, inadempienze probabili e scaduti, una sorta di inferno e purgatorio del sistema Italia. Perché a nostro avviso ci sono grandi opportunità? Perché da un lato c'è stata una lieve contrazione dei volumi, ma rimangono tuttora estremamente elevati. Dall'altro, negli recenti anni il livello di copertura di questi asset è andata via via aumentando, quindi le banche stanno andando nella direzione giusta e soprattutto per soggetti come voi, alcuni fondi di investimento già hanno un interesse ampio all'interno della categoria delle inadempienze probabili. All'interno di questa categoria parliamo di 104 miliardi di euro lordi, più di 70 miliardi di euro di crediti che costituiscono, diciamo così, la maggior parte, più del 70% riguarda corporate. È una fetta molto importante riguarda corporate, tipicamente italiani caratterizzati da strutture finanziarie altamente levereggiate o che durante questi anni di crisi dal 2008 ad oggi hanno subito delle scelte manageriali e finanziarie distorte o, diciamo così, poco razionali che le hanno portate in una situazione di problematicità. Il sistema bancario non riesce a supportarle come vorrebbe per tutta una serie di limiti e adempimenti che alle banche vengono richiesti. Per cui, per trovare delle soluzioni e riuscire a riportare questi crediti deteriorati dal mondo delle inadempienze probabili indietro al mondo del performing, quindi da una sorta di passaggio da un purgatorio ipotetico ad un paradiso del credito performing, è necessario intervenire. Intervenire come? In questa slide, io sono tornata alle slide e non ho utilizzato l'app, ma nell'app troverete i dettagli. Qua ho solo tre slide, ma troverete i dettagli di ciascuna di queste opzioni che andiamo via via presentando. Stasera, diciamo, abbiamo cercato di sintetizzare in cinque macro strade le possibili soluzioni. La riflessione che invito a fare, perché a mio avviso, poi l'anno prossimo vedremo se sarà stato così, una delle strade percorribili, già da quest'anno se ne stanno studiando alcune, ma soprattutto a partire dal prossimo anno, è quella della creazione di piattaforme, ma piattaforme che consentano alle banche di fare dei recognition, perché le banche hanno un tema, un tema sempre più urgente, che è quello di ridurre l'MP ratio. Per fare questo i crediti non possono stare sui bilanci, devono essere rimossi dai bilanci delle banche e sono allo studio di vari soggetti la creazione di queste piattaforme, unendo lo sforzo di più banche che possano fare confluire i crediti all'interno di una piattaforma, all'interno della quale l'investitore possa investire. In questo modo si raggiunge il duplice obiettivo per la banca di fare del leverage e per il fondo di riuscire ad intervenire in N situazioni, andando a fare il turnaround dell'azienda e creare valore, e quindi ritorno per il sistema, per il fondo, ma anche per il sistema, con le N conseguenze positive per l'imprenditoria, i lavoratori, lo Stato, quindi le tasse che derivano dai soggetti che non falliscono ma vengono riportati in bonus, e ovviamente i dipendenti e i fondi per gli ottimi ritorni che ottengono.